Non ci scordiamo nel circo, non ci scordiamo negli occhi intensivi, non ci scordiamo nelle bellicce, nella caccia, nelle pesca. Noi queste cose non le scordiamo e oggi siamo qui ad adattare per tutti i soffrusi, gli animali non si mangiano, non si rinvenzano, non si rinvenzano. A tutti gli animali che sono prigionieri, perché tutti quegli animali noi li libereremo. Dignazio Marino è un criminale, è per la vivisezione, ha le mani sporche di sangue, è una persona che va buttata, calci nel culo fuori dal Parlamento e dal SEL. È una vergogna, è a favore della vivisezione, oggi lo fa gli animali, domani lo fa gli esseri umani. Tutti i vivisettori sono assassini. Dignazio Marino è assassino! Nel 92 ha ucciso un babuino e l'anestesia lui non l'adopera, vergogna! Dignazio Marino è assassino! Ed è orgoglioso di quello che fa, è questo il peggio del peggio, è orgoglioso, non se ne vergogna nemmeno! Il gruppo è il Black Dogs di Massa, siamo qui a dare il nostro apporto, la nostra piccola parte alla manifestazione, vogliamo che questo granello, il nostro, blocchi l'ingranaggio e faccia cessare questa ingiusta pratica che non ha nessun senso di essere, non ha etica, non ha sviluppo per l'uomo, non è predittiva per l'uomo ed è sofferente per gli animali. Roberto Guelfi di Massa, grillino! Stiamo manifestando contro la tortura sugli animali.